Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi una vecchia sfida che potrebbe essere ancora disponibile per coloro che non hanno completato la sfida che richiedeva di distruggere delle auto entro 60 secondi dall'atterraggio a corso commercio. Ora le auto per adesso non ci sono quindi la sfida non può essere completata. Di conseguenza Epic Games l'ha sostituita con un'altra sfida che richiede di distruggere due registratori di cassa sempre entro 60 secondi dall'atterraggio. Ma dove si trovano questi registratori di cassa? Ve li mostro subito. Sono davvero facilissimi i ragazzi da trovare. Sono ovviamente presenti nei negozi. Un negozio è questo qui. Questo qui praticamente dove ho messo il segnalino. Eccolo. Quindi entrate. Andate dietro il bancone e lo distruggete. Uscite subito. Vi ricordo che avete 60 secondi di tempo. Entrate in quest'altro edificio. Non potete sbagliarvi. Andate qui e voilà. Questo è il secondo e ultimo registratore di cassa. Grazie.